Abbiamo già completato alcune strade importanti della città, vedi via Campanella, via Domeneco Romeo, via Alicollenzi e in corso via Veneto dove stiamo facendo l'intervista, via Le Zerbe, primo tratto, lato nord, via Possidonia, tra l'altro via Possidonia è una strada importantissima però abbiamo dovuto rinviare perché sicuramente c'erano delle difficoltà che noi ci scusiamo con tutti i cittadini tra l'altro perché in questi giorni purtroppo avevamo fatto un programma tant'è vero che abbiamo dovuto rinnovare l'ordinanza per il cattivo tempo quindi abbiamo creato delle difficoltà, ci scusiamo con i cittadini però è giusto lavorare, è giusto portare in porto questo grande lavoro che stiamo facendo e che quindi per quanto riguarda via Possidonia approfitteremo per farla nel periodo delle vacanze scolastiche e così abbiamo meno difficoltà e si lavora più speditamente.